A tutti voi, amici che ci seguite, il mio saluto affettuoso in questa difficile ora. Ero nel pieno della visita pastorale, quando le circostanze emergenziali che conoscete mi inducevano ad interromperla. Ancora scorrono davanti ai miei occhi i tanti ammalati incontrati nelle loro case, insieme ai loro familiari, i ragazzi con problemi di disabilità. Li saluto tutti, uno per uno. Mi hanno dato tanto e ora li sento vicini. L'improvviso sul più bello, si direbbe, siamo stati costretti ad interrompere anche le attività pastorali, dalla catechesi all'oratorio, alle altre attività liturgico-sacramentali. Ciao ragazzi del cammino dell'iniziazione cristiana e dell'oratorio parrocchiale. Mi addolora tanto questo rallentamento delle attività, così come l'aver dovuto rimandare di alcuni mesi alla celebrazione delle prime comunioni e delle cresime. Sono certo che non perderete tempo, continuate ad imbegnarvi nell'ascoltare e conoscere Gesù attraverso la lettura dei Vangeli. Alla fine sarete ancora meglio preparati. Vedrete che tutto andrà bene, passerà questo tempo, presto potrete tornare alla vita comune, a scuola, in chiesa, all'oratorio parrocchiale. Abbiate pazienza, il Signore vi guarda e vi vede tutti. So che il tempo al chiuso non passa mai per voi che avete bisogno di aria libera, ma la vostra casa è la culla che vi ha accolto e anche se piccola vi ha custodito e protetto. Questo tempo forzato dentro casa è una prova che vi renderà più forti. Coraggio! Presto verrà il giorno della prima comunione e della cresima e sarà una grande festa per voi. Vi dico semplicemente a rivederci a presto. Ora c'è la Pasqua. È Pasqua lo stesso, anche quest'anno. Viviamola con gioia. Anche se non ci saranno tutti i riti degli anni passati e non vi sarà possibile venire in chiesa, seguite dalle vostre case tutte le celebrazioni attraverso la televisione e i social. A tutti dico è una Pasqua vera. A voi ragazzi chiedo di vivere la Pasqua pensando a quanti soffrono e a coloro che sono impegnati in prima linea in questa emergenza. Trovate un momento di preghiera per tutti gli operatori sanitari, per i medici, gli infermieri e tutti coloro che si prendono cura degli ammalati. Abbiate tanta fiducia. Abbiamo tanta fiducia nel loro operato e nelle loro specifiche competenze, ma dobbiamo restare loro vicini perché non si scoraggino e conservino tutte le energie per svolgere il loro importante servizio nella cura dei malati. Auguro a tutti di vivere la Pasqua nell'indimità della casa. Anche se non è possibile partecipare alle celebrazioni liturgiche che avverranno a porte chiuse, potete seguire attraverso i social. Ci spiace questo, ma è un sacrificio che va fatto per tutelare la nostra ed altrui salute. Pur non vedendovi tra i banchi della Chiesa, vi avrò tutti spiritualmente presenti. Non mancherò di offrire al Signore le necessità di ciascuno di voi. Viviamo questa Pasqua nell'incontro con il Risorto. Rimettiamo Gesù Risorto al centro della nostra vita e lasciamoci illuminare dallo Spirito Santo perché possiamo vedere il Signore presente in questa triste situazione, in modo da poter dire con tutta la nostra gioia il Signore è risorto, è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Con affetto vi saluto e vi benedico. Buona Pasqua.